Siamo online? Abbiamo difensori e due, eh? Perfetto. Sta matchando. Sì, ma io non ho ancora imparato i tasti. Tranquilla. Non so fare... Si tira con la D. Si passa con la S basso, con la F. No, com'è che faccio tirare con la W? Con la D. Con la D. Di delfino. Io la D non la uso mai, infatti. Ma tu non devi pensare a tirare, tu devi pensare a fare i passaggi giusti, perché bisogna crearsi l'opportunità di avere la porta vuota. Ok. D'accordo. È stata trovata a School Yard. Sperando che il gioco non mi crashi di nuovo, perché sennò un bestien... Ma quello è vestito da Bruce Lee! Ma! Luca, sei dentro un harem. Come? No, quello è vestito da One Punch Man. No, da Bruce Lee, è la tuttina da Bruce Lee, è da... Ma io avevo il portiere One Punch Man. Avevo il portiere in pantaloncini pelato, tutto muscoloso. Bene. Che anzi, sì. Che anzi, sì. E da Priviland. Io ho proprio il nome... Cosa ha detto no? Ho proprio il nome da punta, io. Da Priviland. Priviland. Da Punta. Da puntato. Ma che... Ma che mi mandi i baci, la mia? Non mi ha fatto. Ma allora... Ok, ok. Mi raccomando. So giocare. Non so giocare. So giocare e non so giocare. Ci sono i comandi in alto a destra? Io so usare solo la S. No, la A. La A. Ah? Ah? No. No. Hai visto che è brava? Ah. Più o meno. No. Vai, Sara. No, chi è? Scus... Ah, ok. Vai, 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 vai. Passa sta cazzo di palla. Ho sbagliato i tasti. Ho sbagliato, scusate, ho sbagliato. Ah, ma quindi... È perché mi ero cambiato i tasti, Luca. Ti ricordi? Stupido. Sei stupido. Vabbè. Oh, scusa. Ti volevo fare lo sgambetto veramente, ma non ci sono riuscita. Prendi, dai! Purti, purti! Ok. Ma perché il portiere è uscito? Perché era uscito il portiere? Perché hai chiamato il difensore, stay out. Perché Blitz attacca, hai chiamato? Guarda che cos'è. Ma porca. Perché eri incrignato tra due, tu. Oh, che c***o. Ma la stavo passando a Xal, però... Vai, vai, Luca, vai. Tua. Eh, mi ha detto. Ah, ce l'hanno fregato. Dovevo passarla prima. Scusa. No, no. Non ho sbagliato niente. Corri! Dovevo passarla prima io a Xal, ho sbagliato niente. Ah, vabbè, tranquillo, succede. Ah, dai, 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 dai. Ok. Beh, bravo. Dai! Yes! Bella! Grande! Grandissimo. Guarda che sparo! Sparo! Che c***o. Cosa stai facendo, Xal? Sparavo, sparavo. Eh, spara, spara. Ti faccio lo sgambetto! Eh, niente di nuovo. Eh, chi è che esce? Bravo, Diff! Vai, Xal, lo scatta! Corri. Passarla subito! Ho visto il passaggio, eh. Ma che è successo? Sono fuori gioco. Eh, sono fuori gioco. È crashato il server. Ah, per un attimo. Per un attimo. Si era un attimo frizzato. Infatti, ho visto fermarti. Sì, non c***o. Dai, non ti stancheremo! No! Vabbè, ma questa è andata a culo perché si è causato il server. Fan culo. Eh, vabbè. Ma sti telefoni? Allora? Sto registrando! Vai, Sara, fattalo! Eh, ma non devi tirare! Cosa grande, Sara? La storia del sinistro, io. Prendi il portiere. Ma c***o. Bravo. Vai, Sal. Perché fai sti passaggi di merda? L'ho passata a te, ti giuro! Perché fai sti passaggi di merda e non fai quelli? Ma ero io, ero io! Ma... E fai sti passaggi lunghi, la gente non ci arriva. Dovete passare sui piedi. Sto gioco è tutto un bug, Dio santo. Tutto uno script. Porca... È già tanto che sono riuscito a fare quel gol. Eh, guarda qua. Guarda qua. Amici, con K, dovete passarla giusta. Con la S. Con la A del pad. Con la S e con la A del pad. Sì, non dire la A a Sara, sennò poi parco. Eh, è vero, è vero, hai ragione, hai ragione. Con la S, Sara. Sara! 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 Dammi la palla! Non riesco a muovermi! Con le prezze direzionali, spappata, fai qualcosa. Hai cliccato fuori dallo schermo. Cosa cazzo fa? No, 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 non ho cliccato fuori dallo schermo. Ma guarda. Non riesco a muovermi. E xsallo, 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 bravo. Non riesco veramente più a muovermi. Bella. Bella, bella. Verica miseria. Cosa sta succedendo? Ti sei raffreddato il gioco? No, adesso funziona. Ti sei raffreddato? Può darsi? Adesso funziona adesso. Eh, si era frizzato. Adaglio. Traumatico. Ma come è Belin nel mio PG? Dai Belin, dai Belin. Ho cambiato il pulsante dello scatto. Adesso son tutto. Passala dietro a Sara Passala dietro a Sara Ho sbagliato Con l'analogico Porca di quella troia Io sono con le frecce direzionali Fagli lo sgambetto Grande Bella Che passaggio lungo proprio Tu li stai facendo solo voi li stai facendo Passaggi lunghi Passala giusta cazzo È stata bella questa Bravo hai fatto una bella indizione Però passa la giusta Ho sbagliato con l'analogico Volevo fare indietro però ho switchato in avanti Perdono Passala Sara Scivola E vabbè gol Por tirri Vai militao militao Eh sto cazzo Dopo vado No Oh Bella Oh madonna Ormai è andata Spara 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 Che bello Eh vabbè Eh vabbè Che cosa ci posso fare Quello chiamo quando registriamo Ma tra Sì Lo sai quando devi scivolare La vedi No devi vedere È presente Eeeh Sì Ecco quando diventa verde Tu scivoli Corri Corri Forrest Ok Quando diventa verde Madonna mia Grandissimo Ti abbraccio Una palla della madonna Ti abbraccio Ti abbraccio Guarda il difensore cosa ha messo a me Guarda il difensore cosa ha messo a me Questo è il good team Ma voi siete una squadra fortissimi Cioè non avete bisogno di Lui ha il cioccolato Guarda che anche tu puoi migliorare Tanti Cazzo Oh Troppo presto Ahia Uh Uh Grande Vai Sara Corri Corri Volevo tirare con la S Scusate Vabbè Eeeh Con la S Con la S No Era bellissimo Te l'ha bloccato Va bene No 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 Cazzo Ma porti Ma dove è andato Perché 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 Eh 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 no Eh Eh Vabbè Adesso farai un paio di livellini Anche tu dai Dai Ti salo potevi passare Ti giravo intorno Eh Gianni aspetta Chi ha Amico Vai Luca Vai Luca Tira Tu Si è messo davanti Sto figlio Della merda Ho visto che rida Porta vuota Dai dif Dai dif Ah Merda Siamo quanto 5 a 3 Dai 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 Manca un minuto Possiamo vincerla ancora Dai Capita di piare Non capita Vai Sara Mi raccomando Piano con la S Io non so cosa faccio Io clicco sulla S Aia che male No Xal Xal Non venire da me Non venire da me Non venire da me Beling Corri Prendetela 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 AC Ok What are you doing Aspetta che disabilito la chat Ok Scusa Scusa Passala con la W Con la W E te l'ho passata con la S Ok Ah L'hanno fregata Eh sì Non risponda C'è proprio Vai Xal Fa una fatica a giocare Con la Vai Luca Questa è mia Pezza di merda Corri Corri Vai Xal Scivola Prima Vado io a destra Vai Tutta tua Ah Poco Bravo Purti Ragazzi Merla Scivoliamo un paio di volte in aria Quando vediamo il passaggio che arriva Che se ci va bene Lo deviamo Io scivolo sempre Scivolo sempre È il mio lavoro scivolare Passa con la W Qui Vai Xal Vai con la Ho premuto A Ho premuto A Vabbè abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Guarda che passa la Sara Roscia Proprio Ho fatto 4 golio e 1 No 5 golio Ok Solo io ho segnato Brava Brava Eh possiamo chiuderla qui È entrato È entrato Madò che è grosso Ma quanto è un palestrato Sto tizio È grosso I difensori sono tutti grossi In che livello 55 Abbiamo tutti Gordon Ramsey Con la bicicletta Siamo tutti delle bicicletta Dai Bisicletchine Sara Allora teoricamente Fai il passaggio Quello giusto Con la W Quello basso Con la S Fai il passaggio Quello filtrante Dove devi andarla a prendere Tu sai Non so il perché Con la A Fai il passaggio filtrante Mentre dovessi fare Quello normale Hai toccato qualcosa No i tasti sono quelli giù Non ho toccato il tasto A Prima è arrivata solo a me Ma chi arriva sotto porta Tira fa gol Mi l'ho fatto vedere Che A me A me quello perché L'ha bloccata Se no era gol Porca ingenio Che fastidio Questa freccia Fai fatemi prendere Un attimo meglio Con i tasti Vai Xal passa Porca l'avevo passata L'avevo premuto A Brava Sara Vai Xal Vai Xal Oh sporco Ho sbagliato Ho premuto X Non ce ne siamo accorti Perché prima Tiravo con X Eh ma Sono salito in un minuto Proprio Eh questa è stata colpa mia Eh vabbè colpa mia Saranno Cazzo di Xalio Xalio Tu passala Passa Xalio Non passa Ma non vuoi passare Ho premuto A Ma non è vero Se la premi La passa subito Tu aspetti troppo Vedi che io la passo Appena tocco palla Va bene Se non fare così Bisogna fare un gioco Di passaggio di passaggi subito subito Ok Lo premo Ecco Vai 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 Tira Ah bravo Xalio Bravo Xalio Hai fatto un bel tiro Mi risponde in ritardo Sto lagando Devo crossare Ti Tira Bello Anzi grande Luca Era tua quella palla Però Sara Era tua quella palla Dovevo crossare Non sapevo cosa fare Ho cliccato la vo doppia Ma non me l'ha preso Vabbè Devi cliccare la zilla No doppia Eh 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 Gnè gnè Madonna Questo era fallo Applaudiscono 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 Applaudiscite Ma Xalio Che cresce Ma por Che sfiga Che sfiga Senta Solo davanti al portiere Con i miei passaggi Eh sì Passare al difensore Oh a Sara Vai Sara doppia Scusa Vai No Era bellissima Era bellissima Bravissima Sara Io so passare Filtrato Ma Ah no Troppo tardi Bella 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 So passare Filtrato E basta Mamma mia Ce l'avevo sotto i piedi Vai Luca Bella Bella Braccio Sara Braccio tutti Vai Bracciamoci Bracciamoci Bravo Xalio Che mi ha visto partire in guida Bravo Bravo Ma perché Perché Guardi con la W Sara Non sono io Lunga A te Tira con la D Vai tira con la D Ah Eh vabbè Ho tirato con la W Eh me l'ha presa Me l'hanno presa Scusate Non dovevo Con la W Vai Xalio Adesso che è verde Quando diventa verde Devi fare l'intervento Ok Passare con la W Scusate Al portiere No vabbè 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 Ok Ho fallito il Vai 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 Passa la Bravo Xalio Ci provo Eh Eh vabbè Ci provo Ci provo Guarda adesso Guarda Guarda adesso Ha tirato Ha tirato Quello che ho fatto io prima Ha tirato Guarda adesso Guarda Si scripta il nostro Non ho capito Hai visto? Che passaggio lungo Spara Spara Io ho i booster Eh vabbè Tu sei punta Eh si Come hai detto? Che è successo? Scusate Eh non lo so Sara mi segue in scivolata Io scivolo sempre Madonna Bravo purti Ma lo state vedendo a quell'altro Vai Sara Io posso sempre con la S Con la doppia Con la Axan Ah Spero prima magari Come al solito Vai adesso Eh Ma dai Ma l'ho passata L'ho passata Me l'ha bloccata Tu la passi troppo tardi Ma porca puttana Sì ma ti la tirato troppo Ma vabbè C'è Oh Faccio un click Sulla A Premo una volta Non è che Arriva in ritardo Troppo il comando Eh Oh no L'ha presa lui Ha tirato Va bene E' perché Mica O su due le cose O laghi troppo Eh ma può darsi Che laghi Perché prima ho visto Quello fare uno scatto Che non c'era Né in casa Né No non è colpa tua Ero io fuorigioco Ecco qua Madonna il purti Vai vai Uno dei due Vada Ok Sarla non serve a niente Exhal Ti si è fatto saltare Basta Che cazzo Credi Sono qua Prendere Purti Passerà Qua Vai Exhal Vai Exhal Vai Exhal C'hai provato C'hai provato C'hai provato Non ci posso Ci posso dire nulla C'hai provato Passa con la W Subito Va bene Va bene Giusto Ragazzi La W mi fa paura Me la lancia in posti strani Io lancio con la S De fine No Hai fatto la palla curvata Sì Io ho il tiro curvo Ho la skill Il tiro curvo Ah Mica di Questi vanno driblato Sara Di poco È divertentissimo Scivolare Comunque Corri 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 Eh vabbè Brava L'hai detto E l'hai fatto Brava Eh per forza Vai Exhal Tira Tira Parata Allargati Tira Vai Ma che palle Era lo skill Perché È la skill La passa pure Dif Vai Vai Luca Bella Vedi che io te le metto Per far gol Exhal Eh sì Un po' Prego Ho tirato Cos'è Sono centrocampista Cioè sono più capace Io che non ho mai giocato Bella Sta palla Bella Sta palla Bellissima Ha fatto il crossone Abbiamo capito Che il bomberone Qua sono io Eh sì Cazzo Adesso Ma dai Di poco Di poco Ma è il secondo tempo Questo Lui è forte Bella Prendila Tira con la D Vai Tira No che stile Dovevi tirare tu È nostra però È nostra Allora Vediamo Sara non muoverti L'hanno toccato È nostra Ma io dovrei fare il difensore Dovrebbe stare indietro Eh sai quanti difensori Ho Madonna Fammi l'assist Fammi l'assist Tira Devi cliccare ancora Che colpisca la palla Eh no devo Interventi belli Sara quando vuoi Vai Sara Vai Ci ha provato Dai Ci ha provato Ragazzi Quando sta arrivando La palla Voi premete D e il tiro Perché vi tira Quando tocca palla Tira Così fate il tiro Di prima Bravo Diff No Vabbè Passata dietro Scusate Sei in fuorigioco Sara Io no però Tira Vai Ma perché non Dira Ti giuro Ti giuro Mi viene Sto le volte Che non tira Perché tu Tiri troppo tardi Tal se vuoi Eh Vai Oh Come me lo son fottuto Quello però Come mi son fottuto Il tizio Dai 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 Ma La passo La passo a te a Luca Perché non son capace Ecco Cattro Ma io ci ho fregato In tre Dai Quattro a tre Dai Quattro a tre E invece Tira 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 Grandi Assiamo ha vinta Anche la seconda Ho fatto dieci assist Va bene Hai fatto tre assist Tu e uno di Dieci punti Io 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 sono a livello Hai preso sei e mezzo Sara La chiudiamo qua Ci faccio schifo? No Sei brava Se riesci a prendere più di sei Sei brava Tira